E benvenuti a tutti e benvenuti in questo video sono meo007 e oggi siamo in compagnia di Pavons dov'è? Dov'è? Belli regà! E purtroppo siamo in libera perché lui è il nuovo vuoto un rainbow ed è il livello... Aspè sei? No aspetta ho cliccato l'altro, ho sbagliato. Vabbè 5, 5, 5. Ok allora fammi mettere le stelle. Da dove? In che punto? Mi ha uscito... Mi ha uscito... Guardalo, guardalo stifoso. Ha lanciato la granata nel dunque la stiamo forte. Filato, te l'ho filato, ti ho vendicato. Grazie è... Eh dai, è che non ci ho fatto a sparare. Ma che c***o! Vabbè, che c***o! Non ci ho fatto. Giuliano sono un accordo, sui stream... Filato! Filato, stai. Mi fanno più le paure e si rompono in scuola Spillato No, 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 dai Ma nessuno rinforza ai muri, c'è uno là No, perché ho lo scudo su mira Sì, vabbè, se non muore mai E uno da là Da là Ah, sì Da qua proprio spazio sufficiente così proprio Vabbè, su tutta la parete Perché mi servirebbe solo la mia Spillato Vabbè, è rimasto solo lui Ciao Mi dispiace, però E io so Twitch C'è uno E uno su il suo piano Da là Senti, ti ho messo la cosa col trapano Eh, non si riesce a distruggere Non riesce a distruggere Non riesce a distruggere No, 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 andiamo qua Mannaggia le granate di Ela Ela morta Grande Romeo No L'amore Compagno di squadra Amore Anche lui, anche lui No, no, la volevo io la kill Grande, grande, grande La volevo la kill No, dai Volevo la kill Guarda, guarda, guarda Qua scendo io subito Quanto costa Glass? Non lo so Comunque concludo un attimo qui Il video Ragazzi, lasciate un like se mi è piaciuto Commentate e condividete Sì, sì, è piaciuto Non ti preoccupare Scrivete nei commenti Se volete altri video in team E allora Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao